signori un salutino ai smanettoni del web oggi mi trovo insieme ad alcuni compari di studio a Namba siamo venuti ad Osaka nel quartiere degli smanettoni questo quartiere degli smanettoni è la Akihabara di Osaka e qua c'è da morire di gioia qua la gioia sprizza da ogni poro abbiamo karaoke, action figures, made cafe, action figures e di tutto di più in questa zona concentrata adesso stiamo dando una smiciata generale poi ci ficchiamo all'interno di qualche negozietto specifico accattiamo tonnellate di manga questa robina qua che eventualmente nella regione di Tokyo cioè in Tokyo city è difficile da trovare o forse impossibile ma qui il divertimento sarà epocale anche se comunque 30 minuti è vicino ma smicciamo abbiamo trovato un altro compari, quindi andiamo là là, 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 Mad Dreaming e molto divertente molto divertente molto divertente più divertente più divertente più divertente più divertente buon appetito abbiamo anche le signorine le signorine salutiamo le signorine ciao, ciao eeeh signori comunque, sì, un saluto noi di smanettoni nel web vi do delle info più accurate nel futuro perché qua siamo un po' esogaci, un po' impegnati la mattina e smanettamenti studiosi poi bisogna comunque darci dentro per non lasciare andare le cose la giornata è sempre piena, sempre sempre piena e quindi arrivi a fine serata che le energie sono un po' smollate per cui bisogna ritornare presto e recuperarle perché c'è poco tempo per il cazzeggio però in questo tempo libero, soprattutto da dopodomani che c'è il Bon Festival, che è una festività dove le scuole e molte aziende sono chiuse in quel periodo lì, eventualmente, più tempo libero dal mattino ci facciamo qualche giretto, magari più approfondito qui ad Osaka o andiamo a Himeji, vediamo qualche città anche un pochino distante possibile anche una visita in Akhioto anche se comunque è un pochino più lontana ma non troppo da Kobe quindi è fattibile quindi un salutino da Namba qua adesso cerchiamo qualche mandarake che c'è bisogno di One Piece che ancora non li ho trovati qualche manga così a sbafo come se non ci fosse un giorno seguente a questo saluti grazie